Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate. Con questa mia predicazione voglio spiegarvi cosa dovete fare per essere salvati. Perché? Perché avete bisogno di essere salvati, cioè liberati da che cosa? Dai vostri peccati, in quanto voi siete dei peccatori, schiavi del peccato. Il peccato vi signoreggia. Chi commette il peccato, infatti, è schiavo del peccato. Quindi dovete partire considerando questo, che siete degli schiavi e il vostro padrone è il peccato. Che cos'è il peccato? Il peccato è la violazione della legge. Il Dio, infatti, ha dato una legge, diede la legge ad Israele, e questa legge è composta da dei comandamenti. Lui è il legislatore e ha dato dei comandamenti. Voi avete infranto e infrangete questi comandamenti e quindi siete dei violatori della legge santa di Dio. Ora, voi siete schiavi, quindi, perché il peccato è la violazione della legge, siete schiavi della violazione della legge. Non potete fare meno di violare i comandamenti di Dio, perché il peccato vi signoreggia. Voi siete sotto la signoria del peccato e non potete affrancarvi dal peccato da voi stessi. Avete bisogno di essere salvati da qualcuno e io vi annunzio chi è colui che è potente a salvarvi. Egli è Gesù Cristo, il figlio di Dio, che è il salvatore del mondo. Infatti, il Dio Padre ha mandato il suo figliolo nel mondo affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Dice in un posto la saga scrittura che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Quindi sappiate che il Dio ha provveduto il salvatore. Dico il salvatore perché ce n'è uno solo di salvatore ed è Gesù Cristo. In nessun altro, infatti, è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Dunque ecco chi è colui che può salvarvi, liberarvi dai vostri peccati. che può affrancarvi da questa schiavitù che vi opprime e che naturalmente vi retribuisce, o meglio, dalla quale voi siete retribuiti con la morte. Perché il salario del peccato è la morte. Infatti voi siete morti nei vostri falli, nei vostri peccati. E dunque io vi annunzio colui che il Dio ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo, Gesù Cristo. Perché è chiamato Gesù Cristo? Quando egli nacque gli fu dato il nome di Gesù, che significa Yahweh salva, Yahweh è il nome di Dio. Egli infatti è Dio salvatore, Dio che salva. Perché Gesù, oltre ad essere uomo, è Dio. E Cristo significa unto, perché egli fu unto da Dio di Spirito Santo e di potenza. Fu unto da Dio dopo che fu battezzato da Giovanni Battista nel Giordano. Lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea a guisa di colomba. Così appunto è scritto. Infatti leggiamo in Matteo, leggiamo quanto segue. Dice E Gesù tosto che fu battezzato salì fuori dell'acqua ed ecco i cieli sapersero ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Quello fu il momento in cui Gesù fu unto di Spirito Santo. Dunque, egli è il Cristo, cioè l'unto. Ricordatevi questo. Egli è l'unto. Il Dio Padre infatti posò su di lui il suo spirito ed egli andò attorno facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo. Considerate cosa c'è scritto. E questo perché Dio era con lui. Infatti la potenza del Signore era con lui per compiere delle guarigioni. Egli guarì ogni sorta di malattia e infermità fra il popolo. Egli cacciò molti demoni, egli risuscitò i morti. Egli operò segni prodigi, opere potenti, cose meravigliose. Ma Gesù fu contraccambiato con il male. In cambio del bene che egli fece, gli fu fatto tanto male. E contro di lui appunto si adunarono Erode, il re Erode, Ponzio Pilato, il governatore della Giudea e poi tutto il popolo di Israele assieme ai gentili. Per fare tutte le cose che la mano di Dio e il suo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. Infatti egli fu odiato e perseguitato dai giudei, egli fu arrestato dai capi sacerdoti, dagli anziani e fu condannato dal sinedrio giudaico per bestemmia perché fu accusato di avere bestemmiato perché gli sentirono dire che lui era il Cristo, il figliolo di Dio. E poi fu dato in mano del governatore della Giudea, Ponzio Pilato, che inizialmente lo voleva liberare perché non trovava in lui nulla che fosse degno di morte, ma il popolo dei giudei gridò crocifiggilo, crocifiggilo e le grida del popolo finirono con il prevalere. E così Ponzio Pilato sentenziò che fosse fatto quello che il popolo aveva chiesto. E così sentenziò che Gesù fosse crocifisso dopo essere stato flagellato. E così egli fu crocifisso, fu messo su una croce in mezzo a dei malfattori. E questo perché si dovevano adempiere le scritture. Quali scritture? La scrittura del profeta, le parole del profeta Isaia. Infatti il profeta Isaia scrisse queste parole, gli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Ecco perché dunque Gesù fu crocifisso affinché si adempissero queste parole. Egli infatti, che era il giusto, colui che non ha conosciuto peccato, si caricò dei nostri peccati nel suo corpo portandoli sul legno della croce. E dopo essere morto sulla croce, morì per dunque ucciso crocifisso, egli fu seppellito e dopo tre giorni Dio lo risuscitò dai morti affinché si adempissero le scritture, secondo le quali appunto il Cristo doveva risuscitare dai morti. era impossibile che egli fosse dalla morte ritenuto perché si dovevano adempiere le parole di Davide che era profeta e che aveva detto anche la mia carne riposerà in isperanza perché tu non lascerai anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Queste parole Davide le proferì per lo Spirito Santo e queste parole riguardavano il Cristo e gli parlò infatti della resurrezione del Cristo dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. E infatti il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti e lo risuscitò a cagione della nostra giustificazione finché noi fossimo giustificati. E dopo essere risuscitato dai morti egli apparve i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio facendosi vedere da loro per diversi giorni e i quali appunto constatarono che egli era veramente risuscitato dai morti. E quindi io vi annunzio la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo il figlio di Dio che Dio ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo egli infatti mediante la sua morte la sua resurrezione ha provveduto la salvezza la liberazione dal peccato ecco perché dovete credere in Lui fatevi esorto a ravvedervi a credere nel Signore Gesù Cristo perché Lui è colui che salva l'uomo dai suoi peccati egli è il salvatore quindi ravvedetevi credete nella buona novella che Gesù è il Cristo e sarete salvati liberati dai vostri peccati perché Dio ha stabilito che la liberazione dai peccati avvenga in questa maniera mediante la fede nel suo figliolo Gesù Cristo mediante la fede nell'Evangelo perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente cioè di ognuno che crede del giudeo primo e poi del greco poi che ha in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede quindi credendo nell'Evangelo sarete salvati affrancati dal peccato liberati e il peccato non vi signoreggerà più e poi sarete giustificati resi giusti perché otterrete la giustizia di Dio che viene dalla fede Dio vi imputerà la giustizia senza opere perché così Dio ha stabilito che la giustificazione sia per fede e quindi per grazia e sarete riconciliati con Dio quindi non sarete più nemici di Dio perché adesso siete nemici di Dio nella vostra mente nelle vostre opere malvagie ma quando crederete nell'Evangelo sarete riconciliati con Dio avrete pace con Dio e quindi l'ira di Dio non sarà più sopra di voi sì perché in questo momento l'ira di Dio è sopra di voi e otterrete credendo nell'Evangelo la vita eterna la vita eterna che è il dono di Dio in Cristo Gesù e quindi dal momento che crederete avrete la certezza assoluta che quando morirete vi dipartirete dal corpo e andrete ad abitare con il Signore nel Regno dei Cieli e quindi scamperete all'orribile fine a cui state andando incontro perché voi state andando all'inferno l'inferno è un luogo di tormento reale dove c'è un fuoco reale dove appunto coloro che vi scendono sono tormentati e voi siete diretti là ma credendo nell'Evangelo otterrete la vita eterna e scamperete al fuoco dell'inferno il Signore vi straperà dal fuoco dell'inferno quindi ravvedetevi e credete nella buona novella che Gesù è il Cristo cioè l'unto del quale parlarono gli antichi profeti da parte di Dio il quale doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti a cagione della nostra giustificazione credete nel Signore Gesù Cristo e sarete salvati chi ha orecchi da udire oda grazie a tutti